Siete tutti qui? Buongiorno Allora Oggi ci sono su Noblox a registrare il video di qualcosa Oggi giochi sempre al gioco di ieri Ho saputo il treno maledetto come si chiama Edward, proprio Edward c'è scritto Edward e fiume c'è 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 ok eccoci e dopo che vuoi partire tra poco allora io cambio arma fa schifo vediamo tutti questi soldi che non me li devo cambiare allora allora quindi io ora dovevo andare se i peli è anche tanto nel gioco scemo dove dovevo andare ah dove ho cominciato a randire inventare ah ah inventario ok dotato quanto c'è tu ? vai, vai lo l'ho fatto, meno male Ok, buonomale Buonomale, buonomale Buonomale E' giusto verso il nulla hotel Ok, questa volta Non devo avere paura Perché so già come spaccai Le ossa sul treno Quindi Ehm Se questo Questo lo sapevo che era forte Che scemo E dai, te lo vieni Sto facendo Sto facendo scemo Oh, bravo Ce l'aiuto Ti si è accesa Ok, ha tu un po' l'unico A me che devo sentire E' vero, sto risparando E' vero, sto risparando E' vero, prendo Non c'è Non c'è Non lo spero, non è qualcuno Ah no, però c'è Non c'è Non c'è No, no, non c'è Un cazzo dato Parri anche l'uomo non c'è un serio bravo il tuo rapporto ok l'altra foto no 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 ma dai ce l'avevo così fatta si sei su sei su oh però grazie mi hai salvato anche tu pistola qua io non ho capito un attimo che gioco è non 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 muoio non 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 si dai si dai dai facci salire facci salire puoi prendermi un nuovo vagone non ce l'ho e vabbè vaffanculo allora ehm ehm da do 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 la gente nel vivo scusate se non c'è però io la volevo solo che non me la faccio piaggia oh 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 ho paura non va ma è uè 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 sampa uè sampa vabbè vabbè angio questo è italiano allora africano africano vabbè vabbè 21 se voi lo vedete là sopra è il 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 i il u o munizioni non ue si fa attacca no 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 il 3 4 5 i servono le funzioni il film grazie a chi ha chiamato scuola il dottor non posso l'uomo c'è l'uomo 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 il grande l'uomo è sempre andato piccicliette e maglietto pochi devo sentire di nuovo posto cd l'accia di questo 1 1 1 1 3 4 4 5 5 non no io ho fatto che ho fatto vorrei, vorrei, vorrei nooo mi auguro che non mi vedevo mi fai, mi fai, mi fai mi fai, mi fai mi fai mi fai spavento mi ho preso il spavento io arrivo per stare no, non lo dico, non lo dico eeeh, non posso ti entrivi tu hai guardo da lei tu, 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 tu corri, corri, corri corri, corri porca, porca sparo, sparo, porca porca, porca, porca tu io potevo spararlo solo se non ci sono riuscito perché naturalmente era troppo vicino non sapete quanto riguarda le munizioni munizioni solo due cavolo di munizioni come devo far come devo far come devo far come devo far nasce non non no tu o tu ma no ma nu scuola non 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 l'uomo ciao ciavoli per l'argomento ciao che bello un po' non è il schianto dove un un uomo un po' di schiena di scuola non tu mi senti vabbè mi compro la tabba ci sono gli schifo no fa tutto no questo 320 no no costa troppo sono di nuovo sono altra compiò questa di 20 euro però mi lascio questa, ancora non prendo quella nuova che ho comprato non so schianzo però sto gioco delle palle, poi si scala live cioè ancora non la voglio finire perché sono 30 minuti che lo sto facendo quindi la posso fare tante controllo, possiamo fare ancora tante partite dai 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 vado di gioco si ok prendendo delle armi per me ok allora aglio ok ci spazio allora l'arma ce l'ho già in mano da porco non capo allora mi sono di più un scioglio non c'è un ufficio c'è un ufficio con la prima oa che è il caso di testa di cazzo allora corriamo non sono due due munizioni 8.4 leonan 6 grazie grazie questo no no questo e a a a a il non mi sono non mi ha avuto sparo io non secondo me non mi ha visto cacchio sony ciao si toglie e toglie ho fatto spiegare in tante posizioni devo prenderla oh grazie 3 posizioni sono caricato questo gioca è bellissimo eh, lo devo commentare un po' lana lana l'uomo 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 tutto per me un figlio ieri coi il suo amico l'opportunità non ha visto una vista di un'intera vita a un buon messaggio un uomo un uomo un uomo con la munizione si funziona apri apri di munizioni c ci sono cittadini sto dicendo sonendo come bello è uno schianto ma non me lo prendo mai il treno il treno originale quello quello che è portato un po un po un po un po un po l'albergo 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 Tutte le munizioni che mi ha fatto perdere, visto che l'ho fatto una munizione non mi prendo davanti. Avete visto il treno che passava di qua? Scrivetevi nei commenti e lasciate un like e spiegate al canale. La munizia seconda era quella che ho lasciato, eccola. Grazie a tutti.